Ehi ciao ti rubo proprio un attimo veloce per dirti mi dispiace il video potrebbe non essere chiarissimo a livello di informazioni un po' fatto di fretta per il semplice motivo che lo studio mi sta portando via davvero tantissimo tempo e questa cosa mi dispiace davvero tanto spero che tutto torni alla normalità il prima possibile e questo dovrebbe accadere più o meno verso il 15 settembre vi aspetto comunque nel canale aggiornati e mi dispiace se eventualmente il video non è fatto benissimo detto questo buona visione bella gente benvenuti in questo nuovissimo video oggi ragazzi siamo nel combat test numero 7 signori lo hanno aggiunto scusate se non è uscito il video ieri ma come sapete ragazzi mi sto prendendo davvero tantissimo con lo studio perché ho degli esami da fare fra una decina di giorni quindi voglio gli imboccarlo con i commenti per farmi un bel regalo di fine studio diciamo la mojang ha deciso di cambiare il combat test di nuovo e come vedete dal titolo esatto signori torna tutto come prima non proprio ovviamente ma alcune modifiche che sono quelle che ho scritto in questa prima parte dei cartelli diciamo dice tutto torna tutto come prima questo che cosa significa questo non significa che la spada è tornata a fare ma semplicemente come ho scritto onestamente negli ultimi cartelli si hanno riaggiunto non so se lo vedete l'indicatore di attacco che è molto più veloce onestamente se vedete per bene rispetto a quello della 1.16 hanno riaggiunto gli attacchi caricati e lo sweeping edge diciamo all'interno di minecraft o per meglio dire se dobbiamo fare un attacco caricato nei confronti di un mob il potenziamento l'incantamento di sweeping edge andrà ad interferire con esso e potremo fare un attacco caricato che arreca i danni ai mob vicini in alternativa con l'incantesimo di sweeping edge quello che abbiamo sempre utilizzato e che nell'altro video avevo detto che avevano nerfato guardate signori ora possiamo andare a salvarci l'uovo dello zombie fare attacchi normali come potete vedere ci mettiamo poco anzi se non sbaglio 4 colpi voglio esserne sicuro esatto 4 colpi per uccidere questo zombie utilizzando questa tecnica quindi in 1.16 ovviamente è inutile dire che con 4 colpi non gli facciamo praticamente neanche danno 1, 2, 3, 4 sostanzialmente questi sono gli attacchi caricati ma boh onestamente lo clicco velocemente lo clicco con il coso non mi sembra cambiare più di tanto non lo so ovviamente utilizzando avete visto adesso il colpo critico soltanto 3 attacchi sono bastati boh onestamente è un po' da studiarsela questa questa dinamica non dico quindi come ho detto prima che torna per forza tutto come prima hanno semplicemente riaggiunto gli attacchi caricati e un senso all'indicatore di attacco tutto sommato perché prima era tornato lo spam veloce e sempre perenne uguale attenzione hanno tolto una cosa che onestamente a me piaceva o per meglio dire proprio due cose che a me piacevano l'imprecisione dell'arco e l'interruzione del pasto ebbene si ragazzi ho messo qua diciamo un arco come potete vedere se noi andiamo a mirare contro il muro il nostro arco ballerà un pochino come siamo sempre stati abituati a vedere ma dopo averlo tenuto per tanti secondi come sto facendo in questo momento l'arco non andrà a sballonzolare in modi assurdi io se miro lì la freccia più o meno arriverà nella direzione che volevo nel punto in cui io volevo andasse l'arco insomma come abbiamo sempre visto è inutile soffermarmi più di tanto con le parole quindi sostanzialmente hanno tolto l'imprecisione dell'arco che secondo me era una bella aggiunta tutto questo perché la gente si è lamentata nei commenti e Minecraft ha deciso sostanzialmente di apportare delle modifiche e come potete vedere l'arco è tornato praticamente quello preciso di una volta e non l'arco incasinato che ballava tutto e lanciava il colpo l'asse e miravi lì insomma secondo me potevano anche lasciarla stessa cosa con il cibo adesso ragazzi non so se se lo sapevate adesso voglio un attimo farvelo vedere per bene quando veniamo attaccati come potete vedere noi riusciamo a mangiare senza problemi questa cosa secondo me è davvero molto triste perché ragazzi avevano fatto sì che quando venivamo attaccati quindi sostanzialmente non potevamo nutrirci non potevamo mangiare invece avete visto che nonostante io fossi attaccato dai due zombie riuscivo a mangiare senza problemi di recuperare la mia vita e quindi diciamo che anche una cosa che aumentava un po' le difficoltà di Minecraft è stata rimossa insomma tutto sta sempre diventando più semplice sostanzialmente la gente da casa vuole il semplice purtroppo nei videogiochi di oggi insomma questo è quello che torna come prima quindi l'impecisione dell'arco, l'indicatore di attacco, gli attacchi caricati li hanno riaggiunti ma soprattutto ragazzi hanno rimesso la reach di base a 2.5 blocchi questo significa ragazzi che non so se vi ricordate ma nel combat update numero 5 se non ricordo male avevano cambiato una cosa relativa al reach cioè alla distanza dalla quale si può colpire un mob e avevamo visto che se non sbaglio con la zappa la reach era un pelo più alta proprio per comparare il danno scarso che la zappa arreca il problema di base ragazzi è uno soltanto che la reach l'avevano messa a 3.5 della spada indiamante quando ora come potete vedere abbiamo un 3 infatti io da qui non riesco a beccare il mob quando invece probabilmente si sarei riuscito nella precedente combat update un po' più avanti ovviamente si ce la faccio ma già in quel caso è un po' più complicato insomma hanno modificato questa cosa che era un po' più vecchia, ci saliva qualche tempo fa però insomma questo è quello che torna come prima ma arriviamo alle notizie belle dopo un colpo mancato puoi colpire dopo soli 4-5 tick quindi praticamente velocissimo infatti non so se avete visto ragazzi sostanzialmente gli attacchi veloci, gli attacchi soliti sono rimasti quelli veloci non vengono più contati però come attacchi caricati sostanzialmente loro invece di essere più lenti del 20% gli è raggiunto soltanto un tick alla velocità di attacco questo significa che dopo un attacco mancato si può attaccare di nuovo senza troppi problemi dopo soltanto 4-5 tick questo sostanzialmente è quello che ci viene scritto e rilasciato all'interno del changelog di minecraft resistenza al contraccolpo degli scudi e attenzione essi adesso saranno sempre istantanei questo significa ragazzi che abbiamo una resistenza del 50% al contraccolpo quindi al knockback dei mob quando abbiamo lo scudo caricato questa è una cosa positiva tutto sommato inoltre saranno sempre istantanei quindi non ci sarà da aspettare quell'attimo che magari ti permette di un colpo o così via no diciamo lo scudo sarà sempre istantaneo questo è fantastico ma comunque anche la resistenza al contraccolpo non è male gli scudi ti proteggono al 100% dalle esplosioni proviamo subito ragazzi proviamo subito prendiamo un fantastico creeper prendiamo un acciarino mettiamo il creeper qui carichiamo lo scudo nella seconda mano e stiamogli vicino ovviamente magari in game of survival però carichiamo il signor creeper stiamo qua vicino e boom non abbiamo preso una hit siamo sobalzati un attimo indietro l'avete visto riguardo al discorso che vi ho fatto prima ma non abbiamo preso neanche una hit questo non è per niente male questo non è per niente male ma attenzione signori sta per arrivare la novità più importante di questo combat update signore e signori le pozioni ora saranno stack da 16 signori guardate qua posso fare shift e tasto sinistro per prendere 16 pozioni di night vision se craftiamo una pozione di invisibilità non dovremmo impiare una chest apposita che potrà contenere soltanto un numero limitato di pozioni di invisibilità ma potremmo inserirne un massimo di 16 una sopra l'altra in questo modo noi beviamo magari in game of survival la pozione come vedete ce ne rimarranno 3 nell'inventario ovviamente la bottiglietta rimane a parte perché questo ovviamente rimane tale ma signori siamo davanti meglio siete davanti perché non so non mi vedete però fidatevi ad una aggiunta ad una rivoluzione dei magazzini sostanzialmente quindi è una cosa fantastica secondo me questa cosa dell'unire le pozioni e ha anche senso tutto sommato che dire ragazzi sono un po' invisibile ma spero di essere stato chiaro se avete qualche domanda nei commenti fatemele ovviamente fatemi qualche domanda trovate comunque il changelog in descrizione se volete scaricarlo soprattutto se volete eh leggerlo e capirci qualcosa da soli detto questo signori vi invito a lasciare un bel like iscrivare al canale commentare passate anche dalla descrizione dove trovate il sito viola delle live il gruppo telegram il profilo di instagram il sito della multico perché è la mia community detto questo signori da Endernico è tutto alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao